La plastica sta lentamente soffocando il nostro pianeta e noi siamo i carnefici di questo oltraggio alla natura, ma anche le prime vittime. È arrivato forse il punto di non ritorno perché, notizie di pochi giorni fa, sono state trovate tracce di microplastiche nella placenta umana. È la drammatica scoperta di un team di scienziati dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, che ha analizzato le placente di sei donne tra i 18 e i 40 anni. Dallo studio sono emerse conclusioni inquietanti, come ha spiegato su Woman Times il coordinatore del progetto, il professore Antonio Ragusa, direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio romano. Vedere nel microscopio queste particelle dentro il libro è una messa a chi si diventa inquietante. Il ritrovamento di tracce di microplastiche nella placenta, questo, professore, cosa significa? Attualmente, siccome questo è il primo report del genere, questo non si sapeva, quindi apre una via di ricerca, noi non sappiamo quali sono le conseguenze a lungo termine sulla vita dei bambini. E la plastica, insieme con le sostanze chimiche che la ricoprono, è una delle sostanze che più drammaticamente cambiano l'espressività del nostro patrimonio genetico. Quello che sto cercando di dirti è che la plastica nell'utero delle bambine, nella placenta dei bambini, potrebbe determinare conseguenze a lungo termine sulla salute degli individui. Nelle placenti i ricercatori hanno trovato minuscoli pezzetti, tra cui frammenti di propilene e il materiale con cui si fabbricano le bottiglie di plastica. Dalla placenta, cuore pulsante della vita, è come se nascessero bimbi cyborg. Già spiegato il professor Ragusa. Un cyborg, per usare la pronuncia anglosassone, è un organismo metà biologico e metà sintetico. E la plastica all'interno, intromaterno, il grembo materno, dimostra che noi siamo già dei cyborg. La nuova generazione di bambini è già una generazione, diciamo, in cui vi è questa contaminazione tra il biologico e il non biologico. Ma come si è arrivati a Tavio? I modi in cui la plastica può entrare dentro il grembo materno sono sostanzialmente due. Uno è attraverso la via respiratoria. Le microplastiche vengono dismesse, per esempio, dai freni degli automobili, dagli pneumatici, insomma, sono presenti nell'area che respiriamo. L'altro, probabilmente, quantitativamente più importante, è la via alimentare. Quindi attraverso gli alimenti che noi introduciamo e soprattutto l'acqua che beviamo. L'ultima inquietante scoperta degli scienziati ci insegna che non abbiamo più tempo. La transizione verso un mondo pulito e un'umanità migliore è l'unica strada da percorrere, se vogliamo risalire la china dopo aver toccato il fondo. Facciamo qualcosa. Non perdiamoci nella disporazione. Siamo positivi. Cerchiamo di combattere la microplastica nei cosmetici, la microplastica nelle bottiglie di acqua minerale, la microplastica nel packaging, tutti questi pacchetti che abbiamo. Cioè, dobbiamo, io penso che uno studio come questo può sensibilizzare le persone a premere sui politici e nessuno parla di questo, del fatto che stiamo distruggendo il pianeta, del fatto, quindi, fare movimenti di pressione sui politici perché si occupino di ciò che è importante e quindi, diciamo, di cambiare il nostro modo, il modo che noi abbiamo di affrontare la Terra. Adesso noi pensiamo alla Terra come a una risorsa infinita, ma la Terra non è una risorsa infinita e noi siamo quasi un miliardi di individui e dobbiamo imparare a rispettarci e a rispettarla.